Mr. Vandic, scusatevi, cosa stai vestendo oggi? Ok. Cosa stai vestendo oggi? Sì. Scusate? Sì. Cosa stai vestendo oggi? Sì. Scusatevi? Mi compilito i vostri vestiti e ti chiedo cosa stai vestendo oggi? Croazia, croazia. Stai parlando in Croazia. Stai parlando in Croazia. Sì, grazie. Cari concitidiani o concitidiani, A con niente dobro razumieli, Cari concitidiani o concitidiani, Carissimi istriani, Vi porgo un caloroso saluto Come futuro presidente della Croazia. You gave him a one? He's never been better! Oh!